allora buongiorno a tutti sempre qui quasi in diretta al parco della caffarella sono le 11 di mattina di un sabato giornata abbastanza gradevole e ne approfitto per presentarvi il nuovo ep degli effluents uscito il 22 ottobre quindi pochi giorni fa si tratta di un ep abbastanza non tanto lungo di quattro pezzi e da della durata di un quarto d'ora questo segue di qualche mese il singolo campus it house che avevo già recensito qui ad agosto e dicendo che quel singolo era un po una svolta nello stile di effluents verso un brutal metal alla che alla cannibal corpse più il classico jazz core loro e quest'anno è uscito anche l'album intero necro biology che però mi sembra pure questo di averlo accennato qui su questo canale questo era invece un disco full length però più improntato su un death metal classico e con qualche giusto tre tre non più di tre episodi classicamente effluents quindi quel disco lì mi ha lasciato un pochino interdetto invece questo nuovo ep fa ben sperare perché è vi dico subito la cosa più efferata che il nostro effluents ha fatto a livello di violenza sonora si potrebbe anche di potenza sonora si potrebbe rapportare a sarmat diciamo siamo vicini un po a quelli di là sarmat certo era più articolato però insomma questo oppure il primo album loro quello proprio più più grain core però questo è più è più sperimentale del primo album quindi un po mix tra sarmat e lukefaid l'altro album loro o suo capolavoro perché insomma sicuramente è un one man band non credo che sia un gruppo cioè sarà un tizio con dei gregari che gli danno una mano a suonare perché tutto completamente misterioso allora inizia subito il l'epic con due brani che sono allora bones node in beckic mania e the blood thirst which follows recital delivery of the terriac allora questi sono praticamente fatevi conto i negative city completamente impazziti in completamente proprio impazziti con che pare che giammano con il borbeto magus quindi insomma un qualcosa sia presente il borbeto magus degli anni 80 di new york che facevano un free jazz completamente detonante forse fatevi conto come un peter brosman all'ennesima potenza su su agaric incidevano ecco barbet wire maggots mi sembra che era l'album loro capolavoro io ho sempre poca memoria per i titoli quello insomma con la copertina bianca ecco un po tra i negative city e quello ed è veramente di una potenza spaventosa vi avverto subito che è un cioè tremano quasi i diffusori acustici quando quando sparano questi questi pezzi qua sul sul vostro impianto stereo poi c'è la title track che posta al terzo posto che come terzo pezzo è praticamente lo stesso lo stesso attacco frontale inizia con un cinquettio di uccelli poi stesso attacco frontale però poi nel nell'intermezzo cioè nel nel mezzo del pezzo ci sono delle scordature stecche metalliche alla derech e belle i fred fritt quindi i liberi improvvisatori inglesi cioè c'è come un un omaggio un'influenza possiamo dire anche degli ericau e di certa scuola di canterbury quindi è una cosa veramente molto particolare che il nostro effluenza non aveva mai usato prima di ora quindi sulla sperimentazione diciamo di improvvisazione radicale inglese degli anni settanta vicina anche agli ericau quindi a certa scuola di canterbury un po un po progressiva con tutto un sottofondo poi di tra risate in sottofondo e pecore belanti quindi c'è questo accompagnamento di gente un po che ride così e pecore belanti ci ha messo questo effetto qua il finale comunque assolutamente delirante veramente delirante va ascoltato poi il quarto pezzo stillborn no questo l'ho già detto allora è violated limits of the propriety che il pezzo che chiude il quarto quarto pezzo è con qualcosa di simile a una scossa tellurica del nono grado della scala mercalli questo attacca così però verso il finale c'è un gran finale che ricorda il requiem di ligheti con urla umane quindi insomma se avete presente il requiem di ligheti che si sente anche se ascoltano uno degli sprazi di 2001 di stella nello spazio avrete un po l'idea di questo melange sonoro che effluenz ha realizzato per questo nuovo nuovissimo ep che per me si colloca in assoluto tra le sue cose migliori non ho dubbi assolutamente tra i suoi dischi migliori non voglio dire tra i suoi capolavori diciamo forse sarmat rimarrà difficilmente superabile però questo ci va abbastanza vicino quindi per me è un sette pieno e ripeto è da ascoltare sta su spotify su youtube ancora non c'è ascoltatelo bene e ditemi che ne pensate perché per me è la cosa più potente più violenta che lui abbia fatto chissà che si metterà di nuovo perché oltre questo veramente c'è solamente proprio il rumore bianco però ecco il suo rumorismo non è mai fino a se stesso è sempre comunque molto creativo e artistico e quindi questo è un intellettuale non è un metallaro è veramente un intellettuale detto questo buon sabato a tutti io torno a casa e c'è un po di cosette da fare ciao ciao